la safe imbarazzante imbarazzante no, il airfield è il marcello il casetto non è male, non ti piace no, no, vamo qua la zona di lancio è deciso mamma mia, la bestia, quella è una bestia stanno, vabbè, ormai è mezzo che andato, ma per gli anni prossimi ragazzi la priorità è uccidere tutti i nemici si riesce a costruire una squadra di tentorno, mamma mia 2000, cazzo anche noi abbiamo preso gosens, buono eh, gosens è buono c'è gente davanti a me, non sparo ostile in vista, c'è un nemico due team, eh si, si, avanzo, avanzo adesso crack, ah, uno di vita dentro la casa blu, casa blu no, la casa, non te lo dico, eh sì, quella lì ostile in vista problema che non non lo vedo non esce dalla casa, è uscito dietro è la finestra sopra, crackato eh, ho provato a sparare in wallbang, ma non ce l'ho preso è crackato eh, c'è un po' di wallpc eh, non so dove è l'amico però quindi prima di pushare, un attimo oh, è andato dietro, è andato dietro, è andato dietro, c'è un giro dietro c'è un nemico cerco qualche colpo guarda, sono sette colpi d'assalto da merda oh, 30 te ne posso da ah, sei in movimento UAV nemico, atto mi pare di aver sentito qualcuno lì ah, UAV può essere eh, che cazzo UAV, se non è da qua davanti, che cazzo mi ha truttato qua qua non pu- aspetta non pare di aver visto se arriva qualcuno niente, punto di merda, siamo bene, siamo tutti nella zona sicura tutto luttato UAV nemico attivo qua c'è una cassa c'è una cassa protezione oh, c'è ricarica le armi qua cazzo, fuggiti Oh, proviamo a salire. Uh, qua giù sparano. Sì, sì, al prossimo show. Vai, fai giusto. Mi sparano da dietro? Mi sparano! Da davanti ti è? No, no, da dietro, da dietro. Sei attività nemica! Mi hanno fatto da dietro, dallo shop. Aspetta. Come fanno la terra? C'è mancato! C'è l'ecluse, c'è l'ecluse. Eh, ma... Mi hanno tirato... Ma qualcosa, una bomba mi hanno tirato. Eh, non è niente. Mi hanno tirato qualcosa, mi ha fatto esplodere... C'evo zero di vita. No, no. Tu sei il gulag. Sopravvii e gli avrai la tua libertà. Ora combatti! Questa è beccata da destra a quell'altro. A me da... Da sinistro. Ma come ha fatto a fare 150 di danni e non è morto? È tutto sulle tue spazio. Sperata la missione. Qui c'evo zero di danni. Finca il migliore. Boh. Ma che sassi. Preparati! Ma che sì! Vieni sui e tornerai sul campo di battaglia. Se perdi, non potrai farlo. E ora... Sparati! Sparati! Uuuuuh! Questo lo scopro male! Preparati all'oriente! Mica lo vedevo! Ho sparato un po' sensazione. Ma a minuti e venti ce lancio. Qui a Ruins... Non mi ricordo com'è che era la safe? Ah no! Aspetta, aspetta, aspetta! La safe... Tipo verso... Verso qui? Spero che non c'è nessuno. Era verticale e bel po'. Era verticale e bel po'. Quella giù non c'è nessuno. E la gente sarà andato più verso... Lagoon, in teoria. Non è qua giù... Verso... Vuol dire, non è che c'è tanto. Però c'è una macchinina volendo. Facciamoci un giro! Un a terra adesso lì. Sembrano chiuse. Fatti! Invece. L'ha già fatto. No! Sì sì, tutto lo fatto. Vado a ammazzare questo qua giù. C'è le trolle. Lui ce n'è uno. Non c'è il vigore. Non c'è il vigore. Non c'è tanto. Non c'è tanto. Eu' avvene mi coatti. Gas in arrivo. C'è una nuova zona sicura. Tu avvi nemico addirittura! D'accordo! Plagio di equipaggiamento in arrivo! Grande! Non mi cambia l'arma! Mi sei impallato già! No, sto crashando! Sto crashando! No, no, prendila! Adesso è così! Non puoi tornare con i pugni dell'arma del Gulag! Poi si bruciare! Non puoi tirare la tua via e mi fanno da dietro sicuro! Un po' l'aggiornamento! Spendo i costi! Ok, aspetta prima di andare al lancio! E il grano! Si! Se non l'hai visto, se andava al lancio non arriva. Non aveva una cipolla da uguale. Appena metto l'ho, come fa? Inizio è scarso. Me la scampo. Ancora. Destinato ragazzi. Torni indietro, prendo la macchina. Guarda un po'. He's back! He's back ragazzi. Adirittura la versione senza il mirino LK. Si, si. Quello proprio back, back, proprio back. Back to base. Non lo so. Vi farò da autismo. Han tirato l'ovv. Sarà qua di fianco. Ma io vado via. Batto il cazzo. Dammi la lente che te la vado a restare. Ah no, 3.800. 3.800. Aspetta, dammi lo shop che... 200 li trovo. Shop ce n'ha. Ho uno qua. Ho qua che c'è anche lo sciagallo. Vai. Ho qualche canna tirato la tua vita qualche parola. Ho scioccato, non c'è più, non c'è più. Non c'è più, l'hanno preso te. No dai, te te ne troverò 200. Qua c'è un altro shop. Stazione medico qui. Stazione medico qui. Stazione medico qui. Stazione medico qui. Ah che 200, c'è sempre. ho sbagliato non entra un altro UAV sento a casa dove è lo shop? stazione medica in quell'altro ci hanno preso lo sciagallo ma è distante? no, vada qui no, non è distante arriva il gas marco la nuova zona sicura vado al lancio vedo un approvvigionamento qui c'è un veicolo qui c'è un veicolo Sengasvi raggiunge! Corriamo verso la zona sicura! Contratto taglia! Si va a caccia! Un nemico è sulle tue tracce! Fa' attenzione! Ecco il bersaglio! Va' abbattuto! Minaccia tutto su di te Gian! Andiamo via! Andiamo via! Prendi la macchina! Ti lascerò la macchina! Vabbè 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 sono qua! Gira gira porco demonio! Mi spara da lì! Spara a me! Spara a me! Spara a me! Spara a me! Non so da dove mi sparano! Da lì dove siete mi sparano! Si! Posso prendere? L'ho visto aspetta! Autorizzo attacco aereo per il mio metore! Chiesta ricevuta! Nel palazzo ho messo il... Il grappolo! E' questo qua! Questo palazzo qua! Arco il punto di raduno! Sparciate posso prendere! Io so qua! Sparci patate come le voglio fare! Oh scendo! So qua dentro! E' un nemico! Splendido! 45 metri uno! Ce l'ho a me! Close a me! 23 metri! No è lì! Lì! Lo vedo! Vedo la testa! Il nemico marcato! Mi si vede l'arma! 48 metri uno sopra! Eh team! Ragazzi! No non c'è nessuno adesso! Mamma mia! Il grau posizionato ragazzi! Bravo! Mamma mia! Ma tolto una piastra! Io ho fatto full vita ma ho tolto una piastra! Ho vieno a prendere il lutto! Arrivo! 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 C'è la sacca! Questo che c'aveva? MP40! Ragazzi! C'aveva la carabina! L'ho asfaltato! Asfaltato! Oh non ci ha preso lui! No! Oh ma cazzo sto scemo! Aspetta! Gli hai preso la MP40? Sì! Ah ok! Vabbè! 38 metri! 38 metri! Sta tornando! Sta tossendo! Ah è dall'altra parte! Lo vedo qua 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 qua! C'è un nemico! Siamo un buon infame! Siamo un buon infame! Sempre lui era! Sì 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 sì! No non era lui! Non era lui! No? No no! Ha fatto someone is waiting for me! E' non in inglese! Ragazza cazzo! Allora calma! Calma! Calma che sono safe! Studiamo! Ah lo shop lo eviterei perché tanto non facciamo un cazzo! Giriamo qua giù! Marco il punto di raduno! Vai! Sinistra! Vai! Si! Incominciamo a ruotare! Io maschera non ce l'ho! Manchio! C'ho il Grau! E l'MP Quarana! E lo stand! Quindi... Non c'ho manco il cecco! Non posso sparare troppo di stand! Non pinga! Poi è buona! Si ma infatti aspetta prima di pushare! Ci deve essere qualcuno ante le rocce! Ah! Sei in movimento! Eh! Pari a laguna! Non ti ha ruota a sinistra? Si si! Niente ping! Giuriamo tutto a sinistra! Mi viene! Non mi sparo! Eh! Davanti a me! Davanti a me! Proprio dove sto guardando io! Colpito! C'ho l'arco di battaglia! C'ho l'arco di battaglia! Ci provo! Sei attività nemica! Non ci ho preso con l'arco! Eh! Sempre di dietro! Con la testa! Eh! Non... C'è il petto! L'ho visto? È morto! È morto! C'è un altro team! C'è un altro team là dietro! Non pushare eh! Stai coperto! No no! Non mi metto qua dietro! Dietro di me! Guarda dove sto guardando! Lassù! Ostile in vista! Ostile in vista! Ostile in vista! Ho girato a sinistra! Com'è il nemico attivo! Dietro con la roccia! Ostile in vista! Lo sgrano! Ma poi veni da me eh! Sì sì sì! Passo adesso! Il dietro con la roccia del cazzo! 38 metri! Sì! Qui dietro! C'è un nemico! Come lo pushiamo? Io da destra o da sinistra? È pronto? Vai 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 vai! Vado eh! Come lo pinga! Cazzo! È fuggito! Porcos'era qua! Oh! Alla nuova zona sicura! È lì dietro! C'è attività nemica! Team 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 Team! Mamma mia! Oh! Tiara Ferragni in italiano mi ha fatto! Ma come ha fatto! No ragazzi! Il grado pensionato è! Ma dov'è? Te lascio la mia! Te lascio la mia! No no no! Ma lo stendo va bene! Non c'ha la secondaria questo! Non ce l'ha! Sì sì! Ce l'ho dietro! Buono buono! Un baggiamento letale qui! Allora tu c'hai la stun? No! C'ho il ping! Non l'hai visto? La prendi la stun! La prendi la stun! Aspetta! Il ping però c'è! Oh! Che cazzo fai? Oh! Eh ho fatto uno! Piano cazzo! Ping! A di poco! Returiamo a sinistra! Truriamo a sinistra! Eh guarda! Lì era! Le attività nemica! Eh l'ho visto che forse stavano le sparate! Aspetta eh! Qui siamo in safe! Adesso ce l'abbiamo eh! Eccolo! Guarda! Li vedo uno laggiù in fondo! No! Ragazzi il grau! Ragazzi il grau! Ma che cazzo dici? Sono lì loro! Nemico marcato! Avanza! C'è una roccia! Cazzo! È davanti a me! Dove ho pingato lì c'è una roccia a sinistra! Sì sì sì! Taggato! Avanzo un pochetto! Cazzo! C'ho pochi pulpi! Eh ci prendo anche lui! Non mi piace sto file! Terminza lanciata! Parla! Gianca parla! 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 Eh cazzo! Ma stunno allora! Stunnato vai! Siete morti in cinque! Vai fino in fondo! Quelli hanno girato dietro quella roccia lì eh! Io non lo vedo! Ma mi colpisco a me! No aspetta non sparò più! Sono attenti là dietro! Ci sono rimasto 100 colpi d'assalto! Ce lo io vieni! No 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 aspetta! Devo vedere se questi qui mi stanno ancora a guardare! Equipaggiamento letale qui! Sì sono ancora la dietro la roccia! Qui eh! C'è un nemico! C'è una nuova zona sicura! È uno solo eh! Crackatissimo! Puscio proprio nelle munizioni! Non so di equipaggiamento per voi! Ok basta basta basta! Ritorno qua! Rottiamo da destra Gianca! Via via via! Andiamo via adesso! Sta appiestrando! Ah stiamo attenti qua eh! Io non c'ho la maschera ancora! Manco io! Mettiamo noi gli unici in due eh! Sto a sinistro a destra! Vieni vieni! Stiamo attaccando! Qui si possono essere tutte le rocce! Ce l'ho davanti uno! Nooo ma... Aiuto aiuto Gianca! Non si prende una fila di una fila! Non si prende una fila! Si prende una fila che è arrivata! Ma che è one-shot? Era FULL VITO! FULL VITO! FULL VITO era! non c'è la maschera la maschera adesso c'è tutto non ho quale idea dove sta il nemico se hai visto qualcuno dimmilo si 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 non ci credo non ci credo questa è la scarsissima vada con l'altro si ha sentito il rosparo verrà qua e non va il gas si avvicina nuova zona sicura per voi questo camperà la corda per me sopra passo passo devo andare via sono moglie del gas che cazzo passi cazzo passi ah sei in movimento suuucca pezzo di merda grandissimo grande l'ho sentito mi sono girato a sinistra e ho sentito dalle foglie ho detto questo una partita giusta giusta perfetta questa l'ho vinta grande nocce lo sapevo cosa guarda sopra è inutile che sto sotto quando dovrei prendere il cavo e muoio quindi tanto vale così mamma ma io non so come ho fatto attorno a quello lì ho sparato proprio a caso questo questa era scarsissima cioè cazzo sono girato le spalle oh a te per girarmi col grau dai come è possibile ma il grau è bello comunque è devastante mamma mia il grau is back motherfuckers ciao una vera winnotta con lo ts per scatola quello per terra bello bello